Veniamo al tema con il quale abbiamo aperto i nostri titoli, ovvero l'India, un mercato molto importante per la tecnologia, per la ceramica. Proprio in questi giorni si svolge una fiera molto importante in Gujarat. Il direttore ha raggiunto Stefano Compagni di McTiles, che si trova proprio in fiera. Vediamo. Come l'hai trovata l'India? Ma sempre in movimento come da 25 anni, però ti posso dire che questo giro si denota, visto che siamo rimasti assenti per tre anni, diciamo, sulla fiera di Ahmed Abba di Gandinagar. Ho visto un'organizzazione sicuramente molto più occidentale. Loro hanno una forte voglia di espansione e già il primo giorno si vede l'interesse comunque di una nazione e di una clientela che comunque è sempre rivolta all'automazione italiana. Seppur hanno già negli anni acquisito impianti da altre parti del mondo, sono ancora fedeli al prodotto italiano, specialmente in un momento dove la loro produzione sta un po' cambiando. Diciamo che dai primi colloqui avuti, un po' con tutta la clientela importante, c'è un po' di calo chiaramente sul mercato interno, sui rivestimenti, ma i grandi gruppi, sono sempre più numerosi i grandi gruppi, si rivolgono a un mercato anche occidentale. Quindi producono formati diversi, formati più grandi, hanno ampliamenti importanti, con aumenti di produzione significativi. Ecco, lì però la parte del padrone l'hanno sempre recitata i cinesi e le macchine usate, è così? Sì, diciamo che le macchine usate hanno fatto la parte del padrone nei primi anni, poi dopo, io già nei primi anni vedevo comunque un misto di usato nuovo. Qualche ed uno di più coraggioso acquistava un po' di nuovo. Poi abbiamo avuto un percorso importante con le nostre automazioni e poi c'è stato l'avvento sicuramente dei cinesi che hanno, per motivi chiaramente non di qualità di macchine ma di prezzi, cercato un po' un'invasione del mercato, però su macchine diciamo non tecnicamente all'avanguardia come in questo momento possiamo avere noi italiani. Cioè qua c'è un ritorno alla qualità italiana anche perché ci sono macchine che fortunatamente produciamo solo noi. Ma di che macchine stai parlando? Beh sai, e qua il rivestimento era, diciamo, sul mercato interno è sempre stato un pochettino il portabandiera della ceramica indiana. Oggi si stanno un po' tutto orientando verso una produzione anche per l'export. Basta pensare che qua ci sono mille ceramiche, quindi non è che ci sia una quantità di ceramiche irrisorie. Loro hanno un mercato interno sicuramente forte, però stanno guardando molto all'estero. I noli li stanno aiutando fortemente perché qua oggi con i noli siamo a un valore inferiore al pre-Covid. Di che area geografica parliamo? Hai parlato di mille aziende, su che superficie si sviluppano? Ma il 90% è in Guserat, quindi è a Morbi, tra Morbi e Gandinagar. Comunque è un'area molto ristretta. Si può parlare di distretto? Il distretto di Morbi è il distretto che copre il 90% della produzione. E lì il mercato come va, il mercato della ceramica? Cioè è talmente grande l'India che immagino che queste aziende non abbiano problemi a collocare il materiale. Ma guarda, qua il mercato interno è molto forte. Chiaramente hanno sviluppato dei prodotti, se vuoi, come formati diversi dai nostri, perché hanno un forte aumento di richieste su un formato tipo l'800x2400, che è una similastra, ma non è la grande lastra che produciamo noi. E questo formato, sulla base di questi formati, si sta muovendo sia il mercato interno che in Turchia, tutta l'Europa, gli Stati Uniti, il Golfo soprattutto. Stanno ampliando tantissimo il loro export, questo è il punto di partenza, dovuto anche al fatto che in una regione come Rajasthan hanno tantissime cave con delle materie prime molto buone. Quindi loro hanno già da anni, un pochettino, utilizzato materie prime locali. Lì si sta focalizzando tutta, diciamo, la parte delle miniere e dei vari prodotti che servono per il porcellanato. Unito al fatto che il paese è in forte espansione, oggi la prima pagina dei giornali nazionali riporta che lo Stato ha acquistato 470 tra i bus e i Boeing. Quindi penso che questo denoti il fatto che lo Stato voglia aprire ad altri mercati. Stiamo parlando di piccoli numeri, capito? Parlavo oggi con un fornitore qui a Sassuolo, mi diceva, ero da lui, vedi queste macchine, sono già pronte ma non le mando perché dall'India non mi arriva il pagamento. È una cosa isolata o tirare a casa i soldini è sempre più faticoso da quel paese? Guarda, io lavoro con l'India dal 1994-95. Io non ho mai avuto un problema di pagamento. Gli indiani sono veramente molto bravi, io posso spendere solo bellissime parole per loro. Poi, casomai, un caso può capitare, ma a me non è mai capitato. Questo ti posso assicurare che nella mia classifica sono tra i migliori pagatori. Ecco, nella fiera iniziata oggi immagino ci siano anche le ceramiche. Dal punto di vista estetico di qualità del prodotto ormai ci hanno raggiunti? Ci hanno raggiunti anche se comunque il nostro prodotto è sempre più ricercato. Quindi producono bene perché hanno tante impiantistiche italiane. Quindi quando monti impianti made in Italy sicuramente con delle materie prime buone. E come sono loro di attitudine che sono gente molto intelligente. L'industria ceramica è capitanata da ragazzi giovani. Sono tutti giovani, ma tutti giovani. Hanno tutti il coraggio di investire, ma soprattutto nei giovani. Quindi sono molto precoci anche nell'invadere un po' il mercato con le pubblicità. Loro sono molto attivi, sono persone intelligenti e hanno dalla sua parte anche uno Stato che in questo momento si vuole espandere. A cospetto di un altro gigante che sappiamo benissimo che è la Cina. Con mille aziende tieni presente che in questo momento si stanno un pochettino tutti spostando nell'aumento della produzione. Perché? Perché capiscono che il loro prodotto a livello di prezzo non può competere con quello italiano. E producendo molto di più abbassano i costi e con dei noli come ci sono in questo momento sono molto aggressivi sul mercato. Sì a livello di prezzo, corrispondentemente, anche al fatto che hanno una qualità che è buonissima. Quindi a parte i levigati storici stanno investendo su prodotti simili agli italiani come la parte delle pietre, cementi. Io ho visto una crescita importante, ma anche a livello organizzativo, anche di ente fiera. Vi ripeto, dall'ultima fiera che io ho partecipato nel 2019, anche a livello di ente fiera sono molto organizzati. Ecco, però se sono organizzati dentro le fabbriche lo sono un po' meno fuori, perché da quello che so io Morbi è sempre stato il terrore dei venditori. Cioè non è che facessero la gara per andare a Morbi, facevano la gara a stare a casa, perché insomma fuori dalle fabbriche c'è poco. No, ti ripeto, è un distretto ancora da ampliare, anche da modernizzare, sicuramente anche solo a cospetto del pollution, della filtrazione, di tutto quello che si dice un po' su tutte cose reali. Però ti dico, la velocità con la quale stanno crescendo è impressionante, questo c'è sotto gli occhi di tutti. Poi a livello di qualità di prodotto, il nostro è sicuramente prodotto all'avanguardia in assoluto, però anche loro con questa facilitazione che hanno sulle materie prime lo aiuta sicuramente. Ecco, un'ultima battuta Stefano, poi ti lascio ai tuoi impegni e ti ringrazio. Sul fronte materie prime, cioè è qualcosa di consolidato questo rapporto tra le fabbriche italiane e i fornitori di argilla indiani? Guarda, sentir loro in questo momento hanno richieste non solo dall'Italia, quindi come lavorazione delle materie prime negli ultimi tre o quattro anni sono cresciuti molto, sono in grado di esportare quantità importanti, senza nulla togliere il fatto che loro consumano tanto, ma già di per sé, perché poi le fabbriche qua a livello di metri quadri aumentano annualmente. Ma io ho visto negli anni che c'è una crescita costante, cioè i 30-40 impianti nuovi tutti gli anni ci sono, in un distretto che comincia a essere veramente caro anche per loro, perché comunque a livello di logistica, acquisto di terreni, è tutto basato sulla richiesta, c'è tanta richiesta in questo momento, quindi anche per loro i prezzi sono saliti. Ti ripeto, a mio avviso il fatto che abbiano trovato materie prime importanti e hanno questa capacità loro di voler crescere costantemente, gente, ti ripeto, molto giovane, quindi è una realtà che ormai nessuno può negare che ci sia, quindi a parte che voglio dire personalmente, a me è piaciuto sempre tanto vendire in India, ho sempre trovato gente molto cordiale e molto mite anche come tipo di clientela, è una crescita costante, quindi bisogna dargli atto che i numeri li hanno tutti. Pensate che il sud-est asiatico per chi produce tecnologia per ceramica è il secondo mercato in quantità di export, il settore italiano ha venduto nel 2021 nel sud-est asiatico oltre 270 milioni di euro e l'India ovviamente è uno dei mercati principali dell'area.